Siamo sulla 229 del Lago d'Orta, nel territorio di Casale Cortecerro, dove nel recente passato, negli ultimi anni, si sono verificati diversi incidenti a pedoni e non solo per la pericolosità degli attraversamenti pedonali. Un problema che volrete risolvere e state risolvendo, Assessore. Sì, esattamente. Questo era già all'interno del nostro programma due anni fa, prima delle lezioni e finalmente in questi giorni si stanno portando a compimento i lavori di questa illuminazione, di questa messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la SS229. Sono cinque punti molto sensibili, per via anche delle attività commerciali sulla quale la strada insiste e quindi è un lavoro molto importante che avevamo in programma di fare e che dalle prossime settimane metterà in sicurezza questo tratto di strada. Tra l'altro, come dicevi giustamente tu, Assessore, cinque punti. Qui siamo in zona Sant'Anna, nei pressi di Crusinallo. Poi ci saranno dei attraversamenti un po' più in basso a Ramate, davanti alla Barappa, sono cinque in tutto il territorio casalese. Esattamente, cinque punti in tutto il territorio casalese, diciamo dal confine con Crusinallo, quindi con Omenia, fin verso il confine con Gravellona-Toce. Cinque punti che soprattutto, anche su richiesta dei fruttori degli esercizi commerciali e delle persone che abitano in prossimità di questi attraversamenti pedonali, che quindi magari devono soffrire dei servizi come i mezzi di trasporto di concert, ci hanno chiesto di mettere in sicurezza e giustamente noi abbiamo provveduto a mettere in sicurezza questi punti strategici. Quindi ci saranno delle insegne luminose, ci saranno che appunto evidenzieranno l'attraversamento pedonale e proprio dei fari? Sì, è un lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo appaltato ad Enel Sole, che è un'azienda leader diciamo da questo punto di vista. Ci saranno questi pali che insisteranno fino a metà della carreggiata, su quali verranno montati dei lampioni a luci LED particolarmente luminose, che daranno un'ottima visibilità soprattutto quando viene buio alla sera.